Tommaso Quattain, PDG distretto Rotary 2041 e responsabile del progetto interdisettuale Età Futura. I Rotary si impegna nei confronti delle nuove generazioni andando a coniugare due tematiche importanti ovvero lavoro e giovani e le chiedo quindi come vi state muovendo in direzione di questa azione. Grazie, il servizio rotariano è caratterizzato come sappiamo da una grandissima professionalità e quindi anche da una grande progettualità. È chiaro che una progettualità si svolge in modo molto più naturale nel territorio di competenza, diventa molto più complessa una progettualità a carattere nazionale. Per celebrare 100 anni di presenza del Rotary in Italia noi abbiamo pensato fosse naturale avere una progettualità anche a carattere nazionale e allora per far fronte alla complessità abbiamo concordato con tutti i governatori che sono 14 in Italia, dei 14 distretti, di costituire su una piattaforma ad hoc, costituire un osservatorio attivo di quello che è stato fatto di più significativo, di quello che è in corso di più significativo e di quello che sarà il futuro. È chiaro che non potevamo mettere dentro tutto, quindi il focus è stato su giovani, lavoro e ambiente. Per i giovani non abbiamo bisogno di spendere parole, è distanza, la necessità, il futuro del Paese e quindi del Rotary naturalmente. Per quanto riguarda il lavoro è uno strumento fondamentale di dignità e di realizzazione futura, per quanto riguarda l'ambiente è una necessità fondamentale che sappiamo oggi drammaticamente stiamo vivendo nelle sue dimensioni purtroppo di evoluzione negativa. Noi contiamo molto su questo osservatorio per sinergie future, perché mettere insieme la conoscenza, l'esperienza e le possibilità di collegamento ci darà veramente una visione di età futura per giovani, lavoro e ambiente.